Avventura la capolinea per le formazioni Under 16 e Under 15 dell'US Avellino in i play-off nazionale. Non è bastato il 2-2 per i lupacchiotti dell'Under 15 per passare il turno a Venticano. La sconfitta della gara d'andata contro la Provercelli li estromette dalla post-season per i bianco-verdi a segno di Michele Lanzone. Anche l'Under 16 saluta i play-off, nuova sconfitta a Bolzano con i parietà del suddito all'evero 2-1 che visa quindi il successo dell'andata. Donatiello a mezz'ora del termine aveva riaperto le speranze dei lupacchiotti trovando l'1-1 provvisorio prima del 2-1 finale dei padroni di casa. Prova di forza invece per l'Under 17 che batte 1-4 la Viterbese nel match valido dell'andata degli ottavi di finale. A segno russo una doppietta di Leonardo e Rusciano al 93 sul rigore. Un successo annetto che ha premiato la superità numerica dei lupacchiotti. Un margine di spessore con il quale poter affrontare la gara di ritorno che si giocherà domenica prossima 15 maggio. Si sta valutando la possibilità di far giocare addirittura la gara sul sintetico del partenio Lombardi. Dopo l'ottima regular season quindi l'Under 15 guidata da Alessandro Fabbero vede molto vicino la qualificazione ai quarti di finale dei play-off nazionali di categoria.